Vediamo di definire bene cosa sono le variabili di stato e cosa sono le variabili che non sono di stato. Cosa vuol dire essere una variabile di stato? Le variabili di stato innanzitutto sono pressione, volume, temperatura, energia interna, entropia, entalpia. Le variabili non di stato sono il calore scambiato e il lavoro scambiato. Prendiamo una qualunque trasformazione da un certo stato A ad un certo stato B del gas. Una variabile è definita una variabile di stato quando la variazione di quella variabile lungo un certo percorso, quindi per una certa trasformazione, non dipende dal percorso, il che significa che se anche io seguo un percorso differente, la variazione della variabile di stato è la stessa. Io qui ho usato l'energia come esempio. Per cui, prendiamo uno stato A e uno stato B. Immaginiamo una certa trasformazione che da A porta a B. Io posso immaginare altre trasformazioni che da A portano in A B lungo un percorso differente. Non importa che percorso faccio, la variazione di energia interna sarà sempre la stessa. Perché? Perché l'energia interna è una variabile di stato. Calore e lavoro non sono variabili di stato. Per cui, il calore scambiato nell'andare da A a B sarà diverso dal calore scambiato per andare da A a B ma passando per C. Lo stesso per il lavoro. Il lavoro non è una variabile di stato. Quindi il lavoro per andare da A a B è differente dal lavoro per andare da A a B ma passando verso C. Perché è importante capire se una variabile è una variabile di stato oppure no. Prendiamo questo esempio. Supponiamo di voler conoscere la variazione di energia interna nella trasformazione da A a B. Questa è una trasformazione di cui io non conosco nulla, non ho nessuna informazione. Ho fatto fondamentalmente una linea a caso. Come faccio a calcolarmi la variazione di energia interna? Sapendo che U è una variabile di stato, non ho bisogno di farmi il calcolo lungo questo percorso. Posso tranquillamente scegliere come percorso un isocora che mi porti alla stessa temperatura di B e poi un isoterma che da C porti in B. Se mi calcolo la variazione di energia interna lungo questo percorso in nero, questa sarà uguale alla variazione di energia interna da A a B lungo il percorso verde. Questo ovviamente è utile in quanto io il percorso nero l'ho scelto utilizzando un isocora e un isoterma. Questo perché volendo conoscere l'energia interna, la variazione di energia interna lungo l'isocora la calcolo facilmente conoscendo la formula. La variazione di energia interna lungo l'isoterma è zero, perché è un isoterma. Quindi ecco che per andare da un qualunque stato A a un qualunque stato B, la variazione di energia interna si calcola numero di moli per il calore specifico a volume costante per la temperatura.